salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video oggi io mostrerò le prime immagini trapelate della nuova season 3 di fortnite ma non perdiamoci il chiacchier e partiamo con il video nel settimo teaser troviamo un'immagine che sembrerebbe un nuovo veicolo nel sesto teaser troviamo questa immagine che sembrerebbe un accampamento pirata o un'isola petrolifera nel quarto teaser troviamo queste immagini che sembrerebbe una luna probabilmente per controllare le maree e un accenno di una skin che potrebbe essere un palombaro o un'astronauta nel primo teaser troviamo l'accenno di un tridente nel secondo invece appare il tridente completo e questo ci fa capire che al 90% ci sarà la skin di acquame in più a foreste finianti è comparso questo fungo che se gli dai cento di legno in cambio ti cura e ti segue spero che questo video vi sia piaciuto come sempre lasciate like, commentate e commentate il video se volete aiutarmi per raggiungere i 10 miei iscritti e scrivetevi al canale al prossimo video iscrivetevi al canale